Via Bari torna a senso unico. La strada più caotica della periferia sud di Trani torna a senso unico. In via Bari è stato istituito un divieto d'accesso che impedisce agli automobilisti, adesso, di percorrerla in direzione di Corso Don Luigi Sturzo. Dunque l'unica direzione consentita è nel senso contrario, verso Via Tolomeo. Secondo quanto già si praticava prima che alcuni anni fa, prima che si decidesse di istituire un doppio senso di marcia, per alleviare i disagi del traffico lungo le strade parallele. Per la verità, anche e soprattutto a causa dei parcheggi selvaggi, in via Bari era ormai divenuta impercorribile nei due sensi di marcia e non era bastato neanche affiggere sui tronchi degli alberi dei chiari di vieti di sosta e fermata. Si parcheggiava ovunque, ostacolando ovviamente il traffico. Ancora una volta, quindi e purtroppo, nell'impossibilità di sanzionare coloro che non rispettano i segnali, si finisce per cambiare i sensi di marcia per salvaguardare in qualche modo l'esistente, quantunque fortemente condizionato da irregolarità. Oggi, in definitiva, è andata in scena l'ennesima sconfitta della collettività.